benvenuti in questo nuovo video sui generi dei giochi da tavolo anche se dire il vero questa volta non parleremo di un genere ma di alcune meccaniche il deck building e il drafting di sicuro se avete guardato i miei precedenti video questi termini non vi sono nuovi ho nominato il deck building in molti casi sia in anteprime che in recensioni basti pensare a black rose wars o i men ho deciso di trattare questi due termini assieme in quanto spesso vanno a braccetto molti giochi che usano il deck building usano anche il drafting il contrario invece un po più raro partiamo dal primo che cos'è il deck building è quando andiamo a prendere le carte da una certa riserva e le aggiungiamo al nostro mazzo per renderlo più forte queste aggiunte al mazzo possono essere fatte prima della partita durante la partita o dopo la partita a seconda dei giochi facciamo qualche esempio un gioco che sicuramente molti di voi conoscono già è magic in magic infatti si costruisce il proprio mazzo e lo si fa prima della partita quindi a meccaniche di deck building pre partita un altro caso sempre restando nei giochi di carte è arkham horror il gioco di carte in questo invece il deck building viene effettuato dopo la partita invece soprattutto con i giochi da tavolo il deck building avviene durante la partita quindi vi sono vari momenti in cui può essere effettuato sapete che tipicamente nel caso dei giochi da tavolo viene fatto durante nei giochi di carte prima o dopo ma non è scritto nella pietra dipende da gioco a gioco ora che abbiamo capito che il deck building è aggiungere le carte al nostro mazzo prendendole da una certa riserva come le prendiamo come le scegliamo ed è qui che entra in gioco il drafting infatti il drafting è quella meccanica per cui si va a pescare da un mazzo comune delle carte che poi possono essere usate o per meccaniche di deck building oppure anche per formare una mano il drafting non è per forza legato al deck building è una delle cose che si usa spesso per estrarre le carte ma può esistere benissimo anche da solo in molti giochi in cui vi sono carte via drafting basti pensare a blood rage che si pesca da un mazzo comune quello è drafting un altro caso molto famoso è everdel ma in generale in quasi tutti i giochi da tavolo in cui vi sono mazzi di carte in comune tra i giocatori quindi soprattutto i competitivi vi sono delle meccaniche di drafting per pescare le carte quando si parla di drafting non è necessario che le carte siano coperte possono anche essere scoperte ma in quel caso si dice che è open drafting è una sottocategoria diciamo ma il punto importante è che si devono pescare carte da un mazzo comune condiviso tra più giocatori in questo modo le carte che noi peschiamo non le potrà pescare un altro giocatore e questa è l'essenza del drafting facciamo qualche esempio black rose wars è un gioco che usa sia deck building che drafting perché peschiamo le carte da dei mazzi comuni che sono le scuole di magia e poi ne andiamo ad aggiungere alcune ai nostri mazzi praticando il deck building quindi un altro gioco che usa entrambe le meccaniche è ion sand dove andiamo a pescare le carte da un negozio comune e poi le andiamo ad aggiungere secondo certe regole al nostro mazzo a ion sand l'ho incluso perché si tende a inserirlo in un sottogenere del deck building che è land building questo perché per come è strutturato le carte che si vanno ad aggiungere nel proprio mazzo avranno un ordine determinato quindi sapremo sempre le carte che ci vengono in mano proprio per questo si dice che non si sta costruendo il mazzo ma in realtà si sta costruendo la propria mano da qui and building tuttavia mi sembra un po una pignoleria è vera è molto precisa come definizione però è così precisa che si può riferire a veramente pochi giochi e a volere andare così nel dettaglio si finisce per avere un milione di generi che si applicano due giochi e secondo me è un po inutile come dicevo ci può essere deck building anche senza drafting prendiamo sempre magic come esempio in quel gioco le carte vengono comprate in buste o scambiate con altri giocatori non dobbiamo pescarle da un mazzo comune sono già in nostro possesso e dobbiamo solo aggiungere al nostro mazzo c'è un deck building ma non c'è drafting c'è da dire che magic appartiene una categoria specifica di giochi di carte cosiddetti collezionabili come ad esempio yugioh e pokemon questi giochi appunto si prendono delle buste di carte o si scambiano le carte con altri giocatori in generale nessuno di questi usa il drafting per comporre il proprio mazzo vi sono dei tornei che si basano sul drafting secondo certe meccaniche ma sono diciamo separati da quelle che sono le meccaniche del gioco in sé ed anche limitandoci al solo ambito dei giochi da tavolo non è detto che se c'è deck building ci sia anche drafting ad esempio tented grail a deck building ma non ha drafting in quanto è vero che si pescano le carte da un mazzo per poi aggiungerle al nostro mazzo personale ma il mazzo da cui peschiamo è sempre nostro personale non è in condivisione quindi non vi è drafting quindi in generale riassumendo deck building è costruzione del proprio mazzo effettuata prima dopo o durante la partita drafting è quando si pescano le carte siano esse scoperte o coperte da un mazzo comune o da una riserva comune se questa meccanica vi interessa vi consiglio ion sand che è uno di quelli secondo me in cui implementata meglio ed è più interessante ion sand è un gioco completamente cooperativo in cui si combatte insieme contro un boss molto forte e molto difficile e per sconfiggerlo useremo dei maghi che andranno utilizzare le loro magie e loro artefatti che non sono altro che le carte che andremo aggiungere al nostro mazzo ion sand è veramente bello ha solo un difetto esiste solamente in inglese e ha una quantità media di testo non difficile però c'è se invece preferite un competitivo non posso che consigliarvi per l'ennesima volta black rose wars in quanto uno dei main skirmish preferiti se invece volete restare a un gioco cooperativo ma in italiano con meccaniche di deck building tainted grail è molto interessante però sappiate che è un gioco un po pesante ha una campagna molto lunga che necessita di essere giocata con i stessi giocatori e soprattutto il deck building effettuato durante la partita può rendere le partite mediamente abbastanza lunghe con questo concluso ma se avete domande o correzioni fatele nei commenti se il video vi è piaciuto attivate le notifiche mettete mi piace iscrivetevi al canale nel prossimo video della serie ritorneremo a parlare di generi e nello specifico i social deduction game se vi interesse ci vediamo là Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti